Mercoledì 21 agosto 2019. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Baldovino Abate. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 21 agosto del 1911 Vincenzo Perugia rubò la gioconda dal museo dell'Uvra. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa due anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'atleta giamaicano Usain Bolt, nato il 21 agosto 1986. Considerato il più grande velocista di tutti i tempi, Bolt è l'attuale campione olimpico dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4 per 100 metri, discipline di cui detiene anche i primati mondiali. Le frasi del cinema? Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito, la sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato, qualcuno che appartiene solo a te e capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn. Proverbio del giorno. Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.